Sì, è prontissimo. Eccoci, eccoci. Eccoci, allora, bene sì. Il napoletano è romanista. Meno 24 ore. Ecco, Fabio è romanista. Vedete che comincia a fare i pregiudizi. Fabio, Napoli, Roma. Come la vedi? 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 La vedi difficile, difficile. Dopo la bella storia di Madrid, che dire? Il cuore... mercoledì era emozionante, era tutto... Domani non vado neanche allo stadio, sapete perché? Perché se vado all'altro stadio mi intossico, perché se nella Roma mi devo fare... Mi devo fare sditto. Invece... Ecco il figlio del San Vieto! Devo dare sfogo alla mia gioia domani, tu la hai sfogissimo. Ma domani... 1-0 contro la Sardegna. Il fuoco 4-4, perché... Eh, mi sta ancora a dirlo. Ma il fatto che io esco da una serata di Champions, hai fatto quel... cioè... L'emozione è stata indescrivibile, più capo. È dura? Sì, è abbastanza dura il gioco. È stata bella emozione. Ma a me mi fa piacere essere uno qui a trovarci. Cioè, ma... Perché... Questo è dei miei amici. E poi domani... Ma domani... Per 48 ore saremo due nemici. Hai avuto la coraggio? 8-4... E le 300 panchine di Luciano domani. Facciamo festeggiare... Eh, facciamo festeggiare... Eh, non lo preoccupa. Non lo preoccupa. Domani... Che... Hai su una maglietta. Fa... Dagli a Roma. 500 solo con te esce domani. E intanto... Fabio, ma... Se la gente si vede su YouTube, no? Diciamo a me, questo è napoletano... E ti fa per la Roma. Eh, sì... Dai, il nome di tuo padre. Tuo padre è Pippo. È Pippo. Con lui che compare anche nel video Napoli-Genua. Un grande... Un grande personaggio. Un grande personaggio. Amico di Cannavaro. Cioè... Pippo, cioè... È il colmo. Pippo che vuole far nascere due figli. Uno romanista e uno mezzo interista. E' un interista. Noi parliamo. L'Inter sta rubando lo scudetto. Ci sta rubando secondo il scudetto. Cioè... Ha rubato un altro scudetto. Napoli-Roma di campionato in Serie A. Fini... Due a due. Due a due. Che tutti gli dicono... Che Francesco segnò con la mano. Invece non è vero. Francesco segnò con la mano. Ah, Gio! Quale mano? Totti segnò con la mano. Ah, Gio. Ti vogliamo così. Ma ti faccio vedere un video su YouTube. Era... L'8 giugno del 2001. Benissimo. Quella vuole avventura di andare allo stadio. Ma state... Infatti alla fine il primo tempo me ne andai. Perché giustamente papà disse vabbè andiamocene. Perché era tremendo. Era troppo pericoloso. Era pericoloso. Essendo piccola poi... Tuglio Riglia. Oh, a te scendere. Ciao, cari. Ci siamo domani. Forza. Forza Roma. Aspè, aspè. Ha anticipato due genici. Poi continua. Guarda, continua. Guarda, continua. Guarda, continua. Continua, bracca. E due mizzi. Prolunga su sala cita. Ah, sì. Infrontato da Max S. Chiuso. Ancora due mizzi. Nello spazio profondo per... Gio! 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 Segur Signor. Gio! Hai da mori! è da morire, è da morire tutto cuore, è da morire, è da morire tutto cuore, tutto cuore, che fa su amore, vai, vai, vaioi, vaij I miei soldi! Mi è diventata merda! Quella frutta di Martina! La parista di merda! Quella voglia che ho visto, eh? D'AIE RONDA! Roma in avanti mentre tra qualche momento sarà il turno di Taranto Guardiamo Si gioca il profetto Napoli che trovate Non è la santa lui! E' la cacca d'arbitro stasera! E' fatta l'arbitro! E' fatta l'arbitro! E' lo so! Il numero 17! Lui si è pagato da l'arbitro! Lui si è pagato da l'arbitro! La cosa è che chiamata non è che chi è pagato! E' lo so! E' un numero di tessuto! Ci sono 3 paesi! Ma che centra questo? Grazie.